Un nuovo modo di fare azienda con un impagno sociale per un'economia equa e sostenibile. E' il tema alla base del seminario organizzato a Bari dal distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata. Un dibattito sulla finanza etica che cerca di esaminare diversi aspetti dell'economia, tra cui l'idea di una filantropia strategica e di un'impresa sostenibile che possa determinare un corretto funzionamento della finanza a favore del bene comune. E' un nuovo modo di fare finanza che si sta affermando. Ed è una finanza che possiamo fare tutti quanti noi, non investendo in imprese che non siano etiche. Che significa etica? Etica significa che hanno a cuore, hanno attenzione per la governance, per la trasparenza, per l'ambiente, per la sostenibilità. Poi c'è la finanza che invece viene fatta dalle aziende e queste si impegnano a non solo avere del profitto, ma anche a restituire una porzione del profitto alla collettività facendosi la torre di qualche elemento di bene comune. A che punto siamo in Puglia? In Puglia non siamo messi sicuramente male. Si sta capendo che fare del bene non fa bene solamente al beneficiato, ma fa bene anche al benefattore. E allora questo perché ha un ritorno in termini di fidelity dei clienti, ha un ritorno in termini di immagine dell'azienda. Grazie.